Salve a tutti i bici elettrizzanti e ben ritrovati in questo nuovissimo video Sono Mr.Electric, oggi siamo con MeraGartotto, la dodicesima parte, qui c'è... Anni Smash Mera che si fa a pezzi e forse si fa nel Kiss Bros faremo RapidSland Guardate che bel culetto E oggi siamo sulla quarta parte di Speculare Faremo un giocatore, perchè mio fratella non deve giocare, è malato Muori figli, tu sei malato! Speculare, stavolta ci sceglieremo... Buona! Immaginatevi un bel L.C. che ci sta Neiman oppure RapidSland Ci premiamo questa meravigliosa macchina con le classiche normali Giusto per fare un po' di...oh Dio quando sono veloce Così più veloce non me ne prego veramente niente, voglio cambiare un po' Allora ci premiamo questo, una bella macchina pronta a scendere in pista E facciamo il trofeo speciale Quindi ragazzi, visto che tra poco inizierà la scuola Che palle! E tutti noi siamo felici, no? Ma stai zitto! Lo sapete che anche se gli piace la scuola? C'è proprio un bambino strano A nessun bambino strano A nessun bambino strano Va bene, comunque Bisogna fra poco iniziare la scuola E quindi tutti noi dovremo andare a scuola fortunatamente Scuola? No, fortunatamente Scuola? Dunque, visto che tutti noi dovremo andare a scuola E vanno ancora uccisi Visto che tutti noi dovremo andare a scuola E chi vuole andare a scuola veramente Naturalmente, due volte naturalmente I video che farò Quindi di così per termini Perché negli ultimi due giorni Ho caricato due video giornalieri Per appunto Intensificare Questi ultimi giorni di video Perché poi naturalmente I video durante la settimana E saranno davvero buoni O uno o massimo due la settimana Perché tutti insieme a scuola Io dovremo andare a scuola Quindi diciamo Mi provarà l'esame E quindi Tra un po' Cominato Poi c'è il nostro errore Avete visto quel tipo Il punto interrogativo Quando Mari prende il punto interrogativo E quindi Assunto Essendo pochi i video Naturalmente Voi dovete Quelli che diciamo Vabbè Dovete naturalmente Rivedervi i video precedenti O quelli che ho fatto Ma non vi preoccupate Naturalmente Alla settimana Uno o massimo due video Alla settimana ci faranno Massimo due Proprio perché Quando c'è tempo Alla settimana Non al giorno Alla settimana Quindi Diciamo Ho pensato Un'idea Per non perdere tempo Durante la settimana E le settimane scolastiche Ad esempio Facevo Prima di iniziare alla scuola Ad esempio domani O oggi E proprio questa settimana Perché la scuola finisce Il quindici di sottembre Praticamente La scuola Pensato No Scuola Il passaggio Avevo pensato di fare Ciò O Di fare Prima che iniziasse la scuola Che fanno Perché mi sto incassinando Dei video Che poi caricare Che poi caricare Durante l'arco Del Del nostro elastico Quindi Dicete così Se mi piace Voi lo so Ad esempio Carico soltanto Tutti il tipo E quindi Non lo so Ad esempio Se vi vedete in inverno Con la manietta A pezze maniche Capite perché E' questo Capite perché E' questo E siamo primi ragazzi Quindi capite perché Se in inverno Se in inverno tengo La manietta a pezze maniche E' questo Ok Facciamo il secondo Che il deserto Di calzotto Eheh Eheh Non fai ridere Cazzo di ridere Ma non c'è ancora il speculare Ok 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 Il gusto C'è arrivata Un periodo Però Ragazzi Sono veramente contenta Perché più a piano Più più grande Mi rompe il cazzo Allora Pian piano Le visualizzazioni Ed ogni video Stanno crescendo E c'è ma ciò Mi fa molto piacere E mi raccomando la punta La mattina Per fare il video Anche se va bene A me interessano più Le visualizzazioni E gli iscritti Naturalmente Perché se uno Si iscrive al proprio canale Se uno si iscrive al proprio canale E poi Non vedi i propri video Che cazzo Si è iscritto al proprio E vado un po' a culo Ad esempio Ad esempio Ad esempio Stai fermo Ok Spadalla 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 Frager Con la nostra superlupa Superbia Ci usciremo Vabbè che siamo morti Intraprendenti Ignoranti Io no No Poi va bene Tutto il fatto Infraprendenti Grindosi E quindi Sappiamo fare tutto Dobbiamo anche Sì Sappiamo anche Sì Va bene Siamo anche Siamo terzi Siamo terzi Dall'ottavi Siamo terzi E poi primi Ragazzi Avete messo la banana Bravo E ho colpito un'altra banana Chissimi ragazzi Siamo Siamo Ebbà Siamo l'altra santa Naturalmente Secondo me Vado un po' prima Avete messo Una messa in me Secondo me Lo facciamo tutto Quindi ragazzi Mettete l'antricaccia Le scrivete il mio canale Come glielo Lo vedete Ok Ok Siamo primi Nel secondo del corso E nel terzo giro Aspettiamo il primo vestibile No 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 Merda Ok E qui Vesi di stare posto Vesi di Eh Oh no 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 Che culo Ma lui c'è avuto Una grande piccola Come avrebbe Finanzato la sanita Si fa Si fa Si fa Ma vuole che cazzo di fidanzata ha A Mona Quel Mona risbatta la porta E' un mistero Che sta prenotando Sì Uè Cazzetto di Bowser Stegolare Difficile Sì In questo caso Dovete essere di step Terror risbatta Quella posta Ma dai No no Non so che cazzo devono Allora Non ho messo Il cresso Pesa Se stiamo Si Ma quel pesce Powder Cazzo Ma quel pesce Mucca 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 Eh E vabbè Sono abituata A non andare a destra Ma dai Forse li trovo Eh si li trovo trovo dice primo e mo col disco non ve ne volte proprio no guarda che cazzo bastardo boh 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 come il bici dei che roli guarda 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 che cazzo per caccia potente ho toccato la bomba se non la toccato secondo me non esplodeva per caccia potente vuoi la bozza 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 no non è la destra è un cacculo non si vuole la zona io c'è caduto nella laula l'ho visto bastardo 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 ok siamo primi nel secondo giro e nel terzo del corso ecco quella è la manzione siamo bravi no 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 i know it 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 vabbè siamo primi ancora ragazzi non ci scorreggiamo i know no 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 ma non c'è parla i don't know i don't know i don't know Mettete il cazzo di mi piace, si si guarda, mettete mi piace ora e facciamo bene, mettete mi piace ora, ragazzi mettete mi piace ora, ma giusto ora, vai per via, ma che cazzo ti urli? Ehi, non sei bene con la testa, ma hai fatto quasi, ma che cazzo ne hai fotte? Dove le parete stelle, stelle vabbè, non ce la davo, siamo primi, non fa niente, guarda, qui sta a carco baleno, ultima cazzo, ultima corsa, faccio un'esterega, sì, ma ci vieni tu, ma? Non ce ne sarebbe, ma non ce la davo? Non ce la davo? Ma vuoi dire, pezzo di merda, si deve calmare! Siamo aperti a fattura. Una e due. Scriviamo il turbo. E andiamo a portare. A voi. A voi. A voi. Scriviti. A voi. A voi. Scriviti. Scriviti. E una banana. E l'altro. Lasciate. No. Un po' di cose. Devi diventare una tapposita. Oh no. Scriviti. E voi. Ok. Ok ragazzi. Tagliamoci. E diventiamo un po' bocca. A voi. A voi. A voi. Oh. Una stonda. Ok. Sono secondi e va bene. Sono secondi e va bene. Sono secondi e va bene. Eravamo. Eravamo primi e non va bene. E davamo molto bene. Siamo terzi e non va bene. E se lui ci fa prima, ci forse. Siamo terzi. Secondo lui. Lui c'è prima, sempre prima. Ma ne va uno prima, non lo dice. Ora è super. Ora devo andare. Ora mea mio, assuntura. Siamo terzi. Raccolosi. Eh no. Ascendo. All'uno terzi di fronte. Prima, prima, prima. Prima, prima, prima. Non so cadere, scusami. Ragazzi, prima. Madonna, sto cadendo. Io tanto. Non so perci che stelle. Ragazzi, i primi. Buona idea. Primi e con culo tram tram. Ok. Fate i primi con sei punti di stacco da da. Easy me rolling. Naturalmente tre tre stelle, no? Per il percorso di merda. Una stella. Una, numero due. Invecemo terzi, tre tre stelle. Va bene. Va bene. Naturalmente, qua ti dici che abbiamo finito. Un giocatore. Gran premio. Speculare. Va bene. La prossima volta si farà il trofeo buscio speculare. E sceglieremo tra uno dei basverotti. Come ad esempio, Iggy, Roy, Lermy e Larry. Poi ci saranno altre parti aggiuntive. Dei trofei di questi. Che faranno, che si faranno i primi due a lui, a lui, a novembre. Quindi ragazzi. Con questa bellissima immagine di Mario Tanuki. O anche di Link Tanuki. Link è bello. Non lo so. Ci rivediamo nel prossimo video. Mettete mi piace, commentate. Mettete anche ai miei più canali su Smashing e Crazy Puppets. Un attimo. Quindi, come dettovi nel video. Il video, diciamo, quando entrerò a scuola. Entrerò. Naturalmente, quando entrerò a scuola, i video verranno meno. Quindi ragazzi, grazie a tutti per aver visto questo video. Un saluto da MrElectric, uno da Super Smashing. Che dice iscrivervi al suo canale. E ciao.